Allora, buongiorno a tutti dal Palazzo di Montecitorio. In queste ore convulse sembrerebbe ormai chiaro che si sciolgono le camere e ci saranno le elezioni anticipate. Volevo condividere con voi un po' quello che è successo in queste ultime ore, perché sentiamo, almeno a mio giudizio, abusato il termine di responsabili, vediamo che c'è una continua ricerca di responsabili, non si sa bene quale nefandezza. Tutto questo già di per sé è molto paradossale, perché io credo che in una democrazia nel momento in cui ci si smarrisca, nel momento in cui c'è una difficoltà, dare la voce al popolo non può essere che per definizione si sbagli. Perché se guardate anche i titoli dei giornali di questa mattina e anche alcuni commentatori, anche persone normali, c'è questo clima da tragedia, come se il popolo non fosse in condizione di scegliere. E cioè si sta cercando di far passare il messaggio che il popolo non è all'altezza di scegliersi il proprio rappresentante, i propri deputati e conseguentemente il proprio governo. Ovviamente noi non siamo d'accordo e ai distratti ricordiamo che Fratelli d'Italia ha chiesto le elezioni quando era chiara l'ingovernabilità di questa legislatura e noi stavamo al 3,5%. Prima delle europee, io ieri lo ricordavo a qualcuno, prima delle europee, quando qualcuno ci dava per spacciati, noi chiedevamo le elezioni perché quando non c'è una formula chiara, quando non è chiaro chi è in condizione di governare la nazione, bisogna ridare la parola al popolo italiano. Poi in queste ore noi abbiamo visto un'accelerazione delle divisioni e io ho sempre pensato che dietro questa crisi ci fosse il malcontento di Draghi, che qualche mese fa è stato umiliato nella corsa alla Presidenza della Repubblica, gli stessi partiti che ieri gli dicevano che era il numero uno e che oggi ipocritamente lo hanno applaudito alla Camera, sono gli stessi che nel momento in cui la nazione cercava un Presidente della Repubblica autorevole lo hanno letteralmente chiuso fuori dalla porta. Da quel momento in poi Draghi ha smesso di fare quello che chi ha un ruolo di comando, se fai il sindaco, se sei a capo di un'azienda, insomma chi ha un ruolo di vertice il primo mestiere che deve saper fare è quello del pompiere, cioè deve spegnere, deve trovare la mediazione, deve cercare di mediare rispetto a tutte le varie anime che ci sono in una maggioranza o in una azienda. Ecco, questo non è avvenuto, faccio soltanto un esempio, noi ci siamo molto sorpresi dell'accelerazione sul termovalorizzatore di Roma, però pochi fanno questa considerazione che il tema dei rifiuti è un tema regionale. In tutte le regioni d'Italia il piano dei rifiuti lo fa, come è per legge, il Presidente della Regione. Soltanto che il Presidente della Regione Lazio non è stato in condizione di gestire i rifiuti e allora il Partito Democratico, anziché dire al proprio Presidente, Zingaretti, di approvare il piano dei rifiuti col termovalorizzatore di Roma e conseguentemente mettere in condizione Gualtieri di metterlo in opera, ha scelto di farlo diventare un argomento parlamentare. E cioè quindi poi un argomento su quale ci si è divise, le 5 stelle si sono divise, eccetera, ma questa è un'altra storia. Ho raccontato questo episodio per dire che a me sembra che si sia cercato a tutti i costi di farlo saltare, con una volontà proprio di continuamente provocarsi e l'abbiamo visto anche in Commissione e quindi mi pare che sia stata quasi una scelta strategica. Io non vorrei che tutto questo sia la conseguenza del fatto che ci sia smarriti per davvero, perché le stime di crescita che sono uscite una settimana fa, e queste anche andatela a verificare, lo dico agli scettici, le stime di crescita per il 2023 ci vedono fanalino di coda. Ma come? Siamo governati dal numero uno, siamo governati dai più bravi. Noi abbiamo il numero uno in Europa, ma le stime di crescita sono nel 2023? Ma non sarà che quando nel 2023 veniva fuori che eravamo deragliato col PNRR, che siamo ultimi per crescita, qualcuno magari si sveglia e pensa che non siamo i migliori? Ecco, io penso quindi che si è voluto staccare la spina, ma noi di questo siamo molto contenti. E' tardi, ma meno male che è arrivato, e finalmente dovremmo andare a votare. Tranquillizzo tutti, anche quelli che mi scrivono, che il centrodestra è un centrodestra maturo, se gli elettori decideranno che la locomotiva, la guida di questo centrodestra sarà Fratelli d'Italia, noi lo abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando sul campo la maturità della nostra forza politica, non solo non soltanto col nostro leader, unica donna a guidare un partito a livello europeo, perché insomma in Europa il leader dei conservatori si chiama Giorgia Meloni, ma soprattutto lo stiamo dimostrando dove governiamo, lo stiamo dimostrando in Abruzzo, lo stiamo dimostrando nelle Marche, lo stiamo dimostrando nei Comuni, quindi molta, molta serenità e la convinzione che noi siamo pronti. Noi siamo pronti per questa campagna elettorale, noi siamo pronti a vincere queste elezioni, noi siamo pronti a guidare la coalizione di centrodestra con gli amici ritrovati di Forza Italia, della Lega, noi siamo pronti a governare la nazione. E sapete perché? Perché in questi anni tutto quello che noi abbiamo provato a proporre o si è rivelato giusto successivamente o è stato preso in considerazione nei decreti successivi. Anche qui un esempio su tutto, noi all'inizio della pandemia abbiamo cercato in tutti i modi di favorire i sistemi di areazione, proporre i sistemi di areazione all'interno delle scuole come lotta al contagio, uno delle sacche forti del contagio appunto sono le scuole, i bambini eccetera, non ci hanno dato retta, non siamo stati ascoltati, oggi siamo di nuovo in piena pandemia, ma questo è un altro discorso, nelle Marche dove il nostro Presidente Acquaroli ha messo in campo questo sistema si sono visti abbattuti di oltre l'80% i contagi, ma questo è solo un esempio. Quindi stasera si saprà la data delle elezioni, è indifferente, si parla del 18 settembre oppure del 2 ottobre, questo poco in poco importa, stasera sarà campagna elettorale, noi continueremo a lavorare nei territori, continueremo a lavorare nelle commissioni, continueremo a proporre, io stamattina sono stato all'incontro con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti a parlare di ricostruzione, a fare le nostre proposte, a dare la disponibilità per mettere finalmente la ricostruzione su un binario vivo e non su un binario morto dove l'ha messa il PD e il Movimento 5 Stelle negli ultimi sei anni, insomma si continua a lavorare, siamo pronti per questa partita. Io mi auguro che sarete pronti anche voi, anzi sono certo che sarete pronti anche voi, serve il sostegno di tutto il popolo di Fratelli d'Italia per vincere questa partita, ma soprattutto per governare domani e dare al popolo italiano, finalmente dopo tanti anni un governo che scelto dal popolo risponda solo e soltanto al popolo. Grazie e a presto.